Siamo partiti con l'hub vaccinale nel quartiere Sanità per vaccinare 600 persone al giorno, da giovedì a domenica mattina, per poi trasferirci in un'altra piazza. Questo hub vaccinale mobile è stato dedicato a questo quartiere, come sarà dedicato ad altri quartieri, proprio per permettere la vaccinazione a queste persone che non hanno la possibilità di spostarsi. Stiamo vaccinando fragili, disabili, categorie per persone che si sono caricate in piattaforma per fascia di età e car griever di persone disabili con la legge 104, articolo 3,3. Grazie a tutti.